Non c'è tutto questo casino, eh. Cioè, anzi, c'è più casino quando non ci sono le Olimpiadi. Nelle metro si cammina molto meglio, per strada si cammina molto meglio, è come se non ci fosse niente. Beh, non è una cosa positiva, eh, comunque. Per me si... Ah, programma questa dragozza, gli hanno cambiato un po' il potere, un po' più veloce, fa un po' più di cose. Stavo dicendo già non ho il potere, mi stava triggerando. Minimo, non sei sempre un po' in mezzo, però. Bravi che partecipate al giveaway, boys. Vabbè, predatore vedi esattamente dove sono, in pratica. Non è male. Ecco. Già non mi sembra... non mi dispiace, onestamente. Predatore, cazzo, vedi esattamente dove sta camminando, però, figo. Con predatore non può scapparti, in pratica. Non puoi perderla. Aia. Mi chiede se fai... E considera se sono senza Dawn. Perché il fatto è che sono anche senza Dawn, del 16%. Nooo, agilità, maledizia. Non ci arrivo, ma... devo provarci. È molto fasto, porca vacca sia fasto. C'è anche la idea che teoricamente hanno tolto tipo il rumore del casino. Sto aspettando solo il potere in questo momento per fare... Questo. Gioco pro killer. Vabbè, non esageriamo, Fulfi. Solo perché hanno baffato un po' la draga. Qualcuno c'ha il perk di Lara. Trovo pur sempre lenta la draga. Si sente un po' anche la velocità della rottura del locker, ci sa. Perché non vedo le tracce? Mi sa che c'ha... Dai, a Sprint Burst, certo, c'è un po' la cosa, tomale, more... More... Tomale mio... C'è un po' il più a strada. Ma chi? Ok, no, ci prendiamo il hit. Me lo macchi di... La batte senza pensarsi. Vabbè, la devo comunque ammazzare, non è colpa mia. Cioè, il mio scopo è vincere alla fine. Sì, non mi sono più chiari i grossi, esatto. Voglio zonarlo da questa parte perché è più difficile per lui luppare di qua. Dovrei arrivarci. Qua. Nice. Provare la draga e non fare il bullo? Ma io la sto provando. E onestamente non mi dispiace. La velocità di TP ci sa assolutamente. Mi sa che era un po' distratta. Ha 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 ha! Vabbè, Sneak, cosa dovevo fare? Se l'ho uscito da una locola? Mi sta lì? Cosa dovevo fare? Devo guardarla? Ha 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 ha! Perdite, non mi sembra giusto, però. E-e se mi facessi luppare da Machi? Cosa dirai? Snake, come ti stai facendo ruppare da monkey? Snake Dove cazzo sono andato, parco tu Golding W, nice È andato su, vero? È andato su, è andato su Oddio, forse no, è tornato indietro È tornato indietro Minchia, ma che velocità, no, è stra buono così il TP È veramente molto buono il TP Maledizione questo perk, porco due Niente, ma chi mi continua a capire la mia faccia, no? Niente, ma chi mi continua a capire la mia faccia, no? Ma perché? Ma io non capisco, non ho fatto niente di male Cioè, spiegatemi Voi quando giocate con la vostra ragazza Finanzata, moglie, fratello, sorella No, sorella, fratello sono altre cose Quando giocate con, comunque, la vostra dolce metà Cioè, ci andate piano Cioè, ci andate piano Non ci andate più pesanti Dovete dimostrarlo Dovete dimostrare di essere più forti, no? Non funziona così? Cioè, gli date un... Gli date un coso di vantaggio? Ci vado più pesante, ma tu non puoi farlo Perché? Ma non puoi di legge Adesso, questo mi sembra eccessivo Poi è la mia ossessione, scusa Era pure dedo dunque, ops La volevo lasciare... Mi ha detto... Devo andare piano Bipede papede Cioè, non pene pure le palle Se l'ho giocato piano La devo proprio lasciare andare E questo è quello che state dicendo Ando un po' infamie Ma che digli qualcosa Poi scusate, eh Parliamoci chiaramente Immaginatevi la frustrazione Di io che non posso normalmente Fare niente E qua che ho la possibilità Di... Dimostrare qualcosa Ah, macchie, eh Stavo framelaggando Potrei andare sempre comunque Mi sa che ho gettato Metardo in pancia d'arri Vabbè ma così mi fai sentire in colpa però Ma come counter il tp sul posto? È difficile counter il tp sul posto Devi cercare di baitargli il tp In pratica Speravo mi lasciassi del tempo per sistemare Se me lo dicevi lo lasciavo Comunque non è male Non è male questo cambiamento La draga onestamente Ti fa risparmiare un sacco Sacco, 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 sacco Sacco, sacco di tempo Aspetta l'agilità Se outplay d'arri da un bacino da Asics Aspetta cambiamento Certo Certo, super Hanno cambiato un sacco la draga E' una ptb Non so proprio come arrivarci Ho provato ad andare di là forse Sono curioso di sentire effettivamente se si sente la draga adesso Con Se la draga si sente adesso con il suo rumore passivo che fa No Ho provato di serve? Serve o già provo? Ah, dici, contro contro la draga Drummi No poi ti piglia, non puo far niente Agilità, maledizia, non posso aspettarlo Ciao Gara, si hanno baffato la Dragon e la PTB Ho soltato qua Prima o poi ti prendo Vabbè, prima o poi Ma sono io il più veloce a tipparsi, Gabriel Normalmente no, cioè a camminare no Si muove più veloce col potere fuori Quando c'ha il tasso destro così Così è un po' più veloce rispetto a prima E a tipparsi si muove più velocemente A tipparsi GG, non mal dai No, per niente Hey GG Non male anche la draga comunque Questi piccoli cambiamenti non sono per niente male Com'è che si sentiva però il rumore della draga? Cioè qualcuno sentivate il rumore della draga di troi muri tipo? Perché me uccide Gabriel la bottola? Poco pochissimo Ok Poco poco Bene, questo è buono Una volta si sentiva troppo ragazzi Mi hai preso così tre volte Sì perché sei abituato a sentirlo la draga effettivamente Ciao a tutti Grazie a tutti.